La Società Italiana di Psichiatria Sezioni Giovani è in prima linea per questa iniziativa Insieme per la Salute Mentale. Oggi in Italia per un ragazzo giovane è problematico riconoscersi un paziente psichiatrico, dobbiamo togliere queste barriere ed è un lavoro che dobbiamo fare tutti insieme. C'è infatti un cortocircuito vizioso che associa il riportare un disagio psichico, comportamentale, esistenziale e il sentirsi etichettato come pazzo, come folle, sentirsi un alienato, dobbiamo togliere questi vincoli. Come anche c'è un altro cortocircuito che è quello dei farmaci. Oggi dire a un ragazzo di prendere un farmaco è qualcosa di insormontabile, viene vissuta come una cosa da evitare ad ogni costo, una lettera scarlatta dal quale non ci si potrà mai più scrollare. Ecco, dobbiamo eliminare questi cortocircuiti. Anche perché tutto questo porta poi a trattamenti tardivi, alla cronicizzazione dei disturbi, a ritardo della diagnosi. Ecco che questa giornata serva a sensibilizzare tutto il mondo e a far sì che la psichiatria non sia l'ultima branca della medicina, ma che diventi una concorrente e un componente essenziale. Abbattiamo i pregiudizi e diamo la salute mentale un diritto per tutti, ovunque, insieme e per la salute mentale.